Vanno fatti complimenti alla APD Fulgatore Calcio, sono con il presidente della società calcistica Francesco Gammicchia per la promozione ottenuta meritatamente. Vediamo di fare un po' il punto della situazione e di capire cosa si prospetta per la nuova stagione. Intanto complimenti. Grazie, noi l'anno scorso abbiamo disputato un campionato di promozione dove siamo stati per un lungo periodo sempre in testa alla classifica, poi dopo per un punto siamo arrivati secondi, quindi siamo stati anche in semifinale di Coppa Italia che ci permetteva con la finale di andare anche nella categoria superiore, non ci siamo riusciti. Poi dopo ci siamo detti tra tutti i dirigenti di dare un premio a questa società perché dura da 46 anni, quindi da 50 anni si fa calcio a Fulgatore grazie a questa società che è sempre stata stessa società con la stessa matricola, siamo una delle società più longeve della Sicilia occidentale e quindi abbiamo dovuto dare un premio ai ragazzi che hanno fatto un ottimo campionato, infatti il punteggio del ripescaggio ci ha permesso e alla storia che è stata fondamentale per arrivare secondi nella classifica generale in Sicilia per il ripescaggio. Adesso ci stiamo organizzando per disputare il massimo campionato regionale che è l'eccellenza, dove per Fulgatore sinceramente non c'è mai stata, quindi è proprio un lusso, una frazione di 1200 abitanti, confrontarsi con realtà importanti, vedi Favara, vedi la Nissa di Caltanissetta, insomma c'è Davide Congolia, però riteniamo che la nostra organizzazione e la nostra modestia può far sì che proveremo a farci valere anche in questo campionato d'eccellenza, non trascurando l'aspetto economico, il nostro bilancio che in una società sportiva è fondamentale. Ci riteniamo sempre dei dilettanti ma con un'organizzazione che va verso un aspetto più professionale. Beh è un momento di grande rinascita per lo sport di questo lato della provincia di Trapani certamente, a partire dalla società maggiore in questo caso la polisportiva nuova creata da Antonini e altre realtà che comprendono il Fulgatore, l'Accadema Trapani e diverse altre. Sì sì, effettivamente a Trapani era da tempo che non si trovava il Trapani che è pronto per andare in un palcoscine superiore sicuramente, perché merita la Serie C, Trapani come città e come l'organizzazione che sta creando Antonini. Era da tempo che non c'erano due squadre in eccellenza a Trapani e quindi complimenti all'Accademia e quindi speriamo di riuscire a mantenere la categoria e quindi dare un'importanza a livello regionale di Trapani città con queste belle realtà. Lui parlava appunto di storia, è Fulgatore certamente 54 anni di esistenza, però il cuore mi fa andare indietro a uno dei capitani più amati del Fulgatore, cioè il compianto collega Bartolo Peduzzi, insomma che appunto ha lasciato il segno nei cuori di tutti voi immagino. Sì, sì, Bartolo è proprio un grande amico e proprio questa è la nostra forza. Chi viene a Fulgatore si innamora di questa dirigenza, si innamora di questa maglia, di questo gruppo e non a caso noi la chiamiamo sempre famiglia. Bartolo è stato un esempio di come si è affezionato a noi e lo ricordiamo sempre con tanta affetto.